Sì, questo è molto importante, è un buon match, buonissimo. Questa gruppa, la nostra squadra, c'è tanto potenziale, è importante, è importante prima in classifica. Ma secondo me anche per il pubblico è una buona partita per guardare. Anche secondo setta con tanta difficoltà, ma è finito bene. Ci rilasciamo tutto in campo e vediamo cosa è.